traders investitori benvenuti questo video vedremo come entrare in live chat sul nostro account di interactive brokers una volta che abbiamo fatto accesso nella nostra area privata dal sito di interactive dobbiamo andare sulla voce assistenza e successivamente sulla voce servizio clienti quindi la seconda e poi clicchiamo su chat si aprirà questa finestra che è un pop up dove nella parte di sinistra andiamo a scegliere la lingua dove noi vogliamo il supporto se c'è il pallino verde vuol dire che è attualmente disponibile se invece è rosso vuol dire che in questo istante non è disponibile e nella parte più in basso andiamo a prendere la categoria dove noi vogliamo entrare in live chat con interactive e successivamente nella parte di destra andiamo a scegliere un argomento specifico per la categoria che abbiamo selezionato una volta che abbiamo compilato questi due campi clicchiamo su prosegui ed entriamo effettivamente nella chat di interactive grazie a tutti